Prima della partita contro l'Inter facciamo una cosa che non ha niente a che vedere con l'andamento del campionato. Decidiamo di fare una cartolina celebrativa e utilizzarla come un meccanismo per accogliere soldi da destinare alla beneficenza, in particolare all'ospedale Gaslini, che è uno degli ospedali migliori d'Italia quando si tratta di cure pediatriche. I bambini sono spontanei, per loro era un momento di gioia, quindi si avvicinavano spesso, chiedevano, ti prendevano per mano, volevano essere vicino, volevano ascoltare, ti chiedevano una maglia o qualcosa, quindi sono stati momenti toccanti e lì l'atleta, la persona, da tutto quello che ha e allora ti chiedeva, ma questo scudetto lo vinciamo, ci fate questa gioia, ecco, ma anche se non fosse stato vero, come potevamo raccontare, cioè non può impedire a un bambino di sognare e quindi dovevamo dare forza a quel sogno.